Una buona giornata, benvenuti alla Resegna Stampa del Giorno. Oggi è il 14 di aprile, siamo al 17 di aprile, sono le 7 del mattino e questa è ora di svegliarsi. Questo è il commento alla stampa del giorno con il santo, lo vediamo subito il santo di oggi. Allora, oggi è San Roberto e il sole è sorgito alle 6.23, tramonterà le 19.58 minuti. Allora, giornate che si allungano, adesso il tempo, andiamo a vedere il tempo. Allora, avremo fine settimana con un vortice freddo sull'Italia, con nuove piogge e neve, addirittura specie al centro-sud. Locale maltempo, anche neve e quote basse, questa è l'Italia di oggi, l'Italia che si sveglia alle 6 del mattino, vedete a mezzogiorno la situazione. Andiamo a vedere nello specifico la nostra regione, un colpo d'occhio veloce, questo è il mattino, pomeriggio e sera, non c'è granché da dire per oggi. Invece domani qualche novità arriva, soprattutto verso il pomeriggio, con della pioggia, vedete, più insistente nel sud della nostra regione. Ma ancora fa freddo, ebbene sì, fa freddo. Allora, l'ora della ripartenza, rischio calcolato, sono tutte frasi che abbiamo sentito in queste ultime ore, da quando il Premier Draghi, insieme al Ministro Speranza, ha fatto la sua conferenza stampa con i giornalisti, ieri per illustrare le novità che appunto interesseranno il Paese, dal 26 prossimo, quindi il ritorno, lento ritorno alla normalità. Allora, andiamo a vedere il titolo del resto del Carlino, la fotonotizia bandiera gialla, il Premier abbiamo deciso di correre un rischio calcolato dal debito alle grandi opere, via alla strategia per il rilancio. Carlino Di Pesero, vediamo giallo la fotonotizia riapertura il 26 di aprile, le marche hanno i numeri per farcela, mentre il paradosso con poca gente da vaccinare, tant'è che il problema che ha detto Saltamartini c'è stato nel sistema delle prenotazioni, ha di fatto chiuso ieri pomeriggio gli hub di Pesero e di Urbino. Poi si parla della Fano Grosseto, finalmente qualcuno dirà ormai sono anni che sentiamo questi annunci roboanti, ma poi spesso sono bolle di sapone, ma comunque Fano Grosseto, il governo ci mette 2 miliardi, ufficializzato il commissario Simonini. Poi sullo screening, ricci, numeri amari, falsi positivi sono 25 su 35 e ancora morto il partigiano, scusate, non per carità di Dio ci mancherebbe, gli allunghiamo la vita, a 96 anni il partigiano vince contro il virus, tutti insieme ce la faremo, dice lui, lunga vita a Maffeo Marinelli che ha 96 anni. E poi ancora l'avventura all'interno del resto del Carlino, la mia ultramaratone come Jurassic Park, parla questo maratoneta appunto che ha appena concluso questa impresa. Andiamo a vedere il Corriere Adriatico, edizione sempre di Pesero, tutti e solo fuori tra 10 giorni. Draghi anticipa la riapertura, nella zona gialla rafforzata ok a ristoranti e bar, ma negli spazi esterni curve tutte in discesa, le marche hanno i numeri in regola per lasciare l'arancione da lunedì 26. Il centro pagina screening, il comune di Pesero scarica l'Asur, tamponi dunque elaborati nei laboratori privati, anche perché come avete sentito Ricci anche nel telegiornale di ieri, si è lamentato del fatto che una volta scoperti attraverso i test rapidi, i positivi, passava troppo tempo, 4-5 giorni per avere il risultato del molecolare. Le marche promosse, curve tutte in discesa, la zona gialla è nostra, calano contagio e ricoveri, è retistabile, carta in regola per le aperture del 26 aprile, l'ultimo report segnala un rischio moderato, ma i dati sono ancora migliorati. Venerdì il verdetto decisivo, venerdì prossimo, sui nuovi colori delle regioni, la saturazione delle terapie intensive è scesa al 44%. Il Carlino di Pesero, pagina 4, gialli dal 26, le marche hanno i numeri giusti, a rischio solo i comuni di Vallefoglia, Lunano, Apecchio e Pian di Meleto, sono possibili in questi casi delle microzone addirittura rosse. Mentre Acquaroli dice adesso il comitato tecnico scientifico ci dica però cosa si può fare e cosa no, dice il presidente della regione Marche. Siamo alle porte di una possibile e importante ripartenza per il Paese, ha scritto e dobbiamo essere in grado di stabilire ciò che si può fare e cosa no, per non correre il rischio che per salvaguardare giustamente la salute di tutti, insomma si rischia però di penalizzare tutti quanti. Un anno fa era comprensibile, oggi invece no. Il ritorno alla vita del Corriere Adriatico, anticipata alla zona gialla dal 26, i ristoranti aperti ma soltanto all'esterno. Questa è una scelta che tra l'altro è stata anche spiegata dal Ministro alla Salute. Il Ministro alla Salute ha detto sostanzialmente che si è visto come all'aperto è molto più difficile il contagio e allora forti di questo si è deciso appunto di ripartire un po' prima ma soltanto per chi ha la possibilità, e qui si riferisce in particolare ai ristoranti e ai bar, per chi ha la possibilità di ospitare tavolini all'aperto. E questa scelta è molto criticata, e lo vediamo a pagina 10 sul Corriere Adriatico di oggi, dai nostri rappresentanti del territorio di associazioni importanti come Conf Commercio piuttosto che Conf Esarcenti. L'out-out dei Deors, guardate voi che titolo incredibile che un povero, un anziano che vuole leggere una pagina come questa, un titolo così, a me dispiace quando ci sono tutti questi termini stranieri, io lo ribadisco a costo di farvi venire la nausea, ma spero sempre che qualcosa cambi, ma comunque l'out-out dei Deors, ecco, spiazza ai ristoratori. Allora, dal 26 a pranzo e a cena fuori ma solo all'aperto e tutti e non tutti i locali sono attrezzati, la rabbia di Conf Commercio, la delusione di Conf Esarcenti, possibilista Ristora Italia. Allora, l'ordine, scrive il giornale, è di dare la precedenza alle attività alle aperte, un rischio ragionato fondato sui dati che sono in miglioramento, ha dichiarato ieri Draghi, tradotto significa i ristoranti in zona gialla, zona gialla rafforzata, riapriranno il 26 aprile sia a pranzo che a cena, ma serviranno i clienti seduti fuori. E' la frustrante variante dei Deors che delude il comparto. Pregheremo per avere il tempo clemente, ovviamente il tempo è fondamentale in questi casi, e lavoreremo tutto il giorno con il naso all'insù. Ironizza Mario Di Remigio, che è il presidente dei ristoratori di Conf Commercio di Pesaro. Se vogliono che tutti siano operativi, fra meno di dieci giorni, dovranno approvare tutte le pratiche, eppure aiutare chi non ha spazi a trovarne. Quindi in sostanza ci sono dei ristoratori che hanno la fortuna a questo punto di avere dei Deors, quindi degli spazi all'aperto con dei tavolini attrezzati, eccetera, e altri invece che non ce l'hanno questa fortuna. E loro cosa fanno? Loro purtroppo questa riapertura evidentemente per loro sarà un problema. Oppure ci sono persone che possono attrezzarsi, ma in Italia sappiamo come sia difficile ottenere un permesso per mettere dei tavolini all'aperto, o attrezzare un'area all'aperto, quindi la richiesta giustamente dei ristoratori adesso è accelerata, però le pratiche burocratiche. Non ci fate perdere troppo tempo perché qui abbiamo soltanto dieci giorni per attrezzarci e dieci giorni per avere tutti i permessi per poter lavorare in queste condizioni, che poi sono condizioni che chiaramente complicano un po' la vita ai ristoratori. Scherzava guardare il naso all'insù, ma chiaramente se il tempo rimane questo, con un freddo così, sarà un po' difficile. Però andiamo verso la bella stagione, quindi cerchiamo di essere anche positivi. Cosa cambia dal 26 aprile? Lo vedrete acquistando il giornale Oggi, nella pagina del Corriere, a pagina 3. Una domanda che è stata fatta da una giornalista sul coprifuoco, era importante infatti saperlo, la risposta è stata non cambia nulla, il coprifuoco rimarrà, qui c'è un errore, un refuso, non dalle 5 alle 22, ma dalle 22 alle 5. Quindi dalle 10 di sera fino alle 5 del mattino resterà il coprifuoco anche dal 26 di aprile. Poi il ritorno a scuola, questo è importante, un mese tutti in classe, dad solo in area rossa, quindi solo nelle aree e nelle zone rosse si farà la scuola a distanza, per il resto tutti torneranno a scuola dal 26 di aprile, insomma l'ultimo mese ci si potrà di nuovo guardare negli occhi. Si parte invece, qui parliamo di vaccini, con la fascia 65-69 anni, le prenotazioni da oggi a mezzogiorno, mentre i care giver che sono coloro che assistono un familiare, lo ricordiamo e che lo fanno gratuitamente, un familiare disabile piuttosto che ha bisogno di assistenza, c'è anche per queste persone una lista di adesioni, l'assessore Saltamartini dice la prossima settimana poi toccherà i 60-64 anni. Allora andiamo a vedere un po' nel dettaglio, da oggi a mezzogiorno, per la fascia d'età 65-69 anni, sarà possibile prenotare la vaccinazione sulla piattaforma di poste italiane, nella quale verrà aperto uno slot dedicato che fornirà l'ora, la data e il luogo del vaccino, dove verrà inoculato il vaccino. Per carigivere familiari di disabili e soggetti fragili invece si procederà attraverso una lista di adesione sul sito della Regione, dove sarà attivato un apposito link tra lunedì e martedì. Quindi questa è la disposizione delle ultime disposizioni. Poi per quanto riguarda gli ottantenni, anche nelle Marche c'è questo buon risultato che praticamente ci fa capire come è stata coperta quasi l'intera platea degli over 80, con la prima dose e la metà dei soggetti estremamente vulnerabili. Quindi le Marche, che tra l'altro ha ricevuto i complimenti da parte del generale commissario straordinario Figliuolo, perché le Marche da questo punto di vista insomma sono a buon punto. La buona notizia pubblicata sul Carlino Nazionale è che la quarta ondata non ci sarà. L'epidemiologo dice passeremo un'estate serena, la vecchia dice vede segnali incoraggianti, ma dobbiamo vaccinare tutti gli over 50 anche con una dose. E fa un'analisi di quella che è la situazione oggi nell'Italia, ma anche in generale, più in generale nell'Europa. E non solo nell'Europa, perché in questo momento sicuramente preoccupano i dati della Germania, della Germania che stava avendo un ritorno di fiamma, un po' quello che per noi è stato a marzo, e soprattutto preoccupa l'India. Scuola, torniamo a Pesaro, pagina 7. Scuola, alla fine i falsi positivi sono 25 su 35. La fornitura dei tamponi finisce adesso nel mirino. Il bilancio dello screening, voluto dal Comune di Pesaro, conferma la confusione dei risultati. La ditta che ha prodotto i test rapidi, intanto ha deciso di inviare uno staff per capire le cause di questo flop. Dunque, 10 positivi confermati al tampone molecolare, a dirlo il sindaco Matteo Ricci, 25 falsi positivi al tampone rapido, a dirlo, è la differenza tra gli studenti inizialmente positivi all'antigenico, poi smentiti dal test successivo. Insomma, un tasso di errore che si conferma al 71%. Ma c'è, e ve lo segnalo questa mattina sempre sul resto del Carlino, che solitamente non è mai tenero con le amministrazioni cittadine, soprattutto di sinistra, l'articolo di Luigi Illuminati che scrive, inizia così il suo pezzo, Matteo Ricci non ammette mai di aver sbagliato, anche nella comunicazione. Non l'ho fatto nemmeno un anno fa, quando criticava il presidente della Lombardia Fontana con la mascherina e annunciava che avrebbe girato la città con una mega spilletta con scritto basta panico, l'Italia riparte, figurarsi se poteva ammettere che il terzo screening organizzato per la cosiddetta scuola sicura non poteva essere raccontato con il solito annuncio di modello Pesaro. E stavolta farà anche fatica a dare la colpa a qualcun altro delle sue scelte. In sostanza Illuminati poi gli rimprovera il fatto che, sì, è vero che lui, il sindaco Ricci dice, e qualcuno con lui, anche noi riceviamo messaggi per dire, insomma, ma va bene lo stesso, anche se fosse uno, quell'uno poteva essere poi, poteva contagiare dieci, altri cento, eccetera, eccetera. Poi è anche vero che quando c'è confusione, immaginate voi 25 falsi positivi, altrettante classi che sono state costrette a rimanere a casa, poi sono state richiamate dicendo, no, guardate che non erano positivi, quindi tornate a scuola, insomma, tutto questo a causa di un test che non è poi così affidabile, lo si sapeva, come il test rapido. Vale a dire, non so se è il caso di utilizzarlo per screening di massa al posto di altre situazioni. Quindi questa è la valutazione che andava un attimino fatta. Però, ecco, poi l'articolo di Illuminati, se comprerete il giornale, poi spiega ancora meglio il suo punto di vista. Allora, c'è un'altra invece notizia che ho segnato, perché ne avevamo parlato qualche tempo fa, sì, esatto, il cappellano dell'ospedale di Macerata, il cappellano dell'ospedale di Macerata, Don Carlos, che non si è mai tirato indietro. Perché ne parliamo stamattina? Perché credo intanto sia giusto, così, gioire insieme a lui per il fatto che si è guarito, guarito ben due volte. E lui la prima cosa che fa, cosa fa? Torna in corsia tra i malati. È il cappellano dell'ospedale, una persona che non si è mai tirata indietro, ha fatto la spola tra l'ospedale e anche il Covid Hospital di Civitanova, quindi è sempre stato in mezzo ai malati, ha rischiato sempre tantissimo, ma non si è mai tirato indietro. Il parroco aveva fatto già la prima dose di Pfizer, forse per questo, dice lui, la malattia è stata meno pesante. Insomma, alla fine, la domanda di Paola Pagnanelli del Carlino è tornerà ancora tra i malati dopo questo secondo spauracchio? La risposta è certo, appena ho avuto il terzo tampone negativo e sono stato ufficialmente libero, l'ho fatto subito e lo farò ancora. Lunedì riprendo il lavoro in ospedale, non posso mollare, finché c'è questa emergenza, non posso mollare. Fanno Grosseto, il Governo ci mette due miliardi, ufficiale la nomina del Commissario Simonini, l'alto dirigente Anas, ha poteri di appaltare i lavori col sistema del Ponte di Genova, bypassando tra file, contenziosi e burocrazia. Chiaramente c'è soddisfazione, l'assessore regionale Baldelli chiede il tracciato originario a quattro corsie e doppia galleria, ma Roberto Damiani questa mattina inizia un po' così, dicendo che è la trentesima volta buona in 40 anni. Cioè, per 30 volte abbiamo urlato, gioito, dicendo oh, finalmente si completerà la Fanno Grosseto. Per 30 volte in 40 anni. Chissà che questa volta sia davvero la volta buona. Parliamo della Fanno Grosseto, scrive Damiani, strada dei sogni che muoiono all'alba. Ieri è stato nominato dal Governo il Commissario straordinario dell'Opera Massimo Simonini, che è amministratore delegato di Anas, avrà mano libera per progetto e appalto, modello Ponte di Genova, in modo da realizzare in fretta il tratto mancante canavaccio traforo della Guinza di 33 km e costo 1,9 miliardi di euro e in cassa ci sono solo 500 mila euro. Non è chiaro se l'alto dirigente si è informato o meno dello stato dell'arte e dell'opera, ma gli offriamo dei dati di fatto che magari non sa. E davvero ci sono dei dati molto interessanti che potrete leggere questa mattina sul giornale. Intanto questo progetto che è stato approvato, Anas lo ha pagato un milione e mezzo solo di parcelle e l'itinerario di 33 km ha comunque già l'ok. La cronaca scontro con un furgone ferito un 45enne. L'uomo viaggiava in sella ad una moto in strada fornace vecchia praticamente dietro lobby sul posto l'eliambulanza. L'urto ha scraventato questo 45enne a terra provocandogli un forte trauma cranico oltre ad una serie di conseguenza in tutto il corpo e per questo è stato chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza. Mentre sull'altra page questo è successo a Pesero vicino all'autostrada colletta per la droga di gruppo palteggia lo studente arrestato il 18enne bloccato con un carico di 2 kg di marijuana per gli amici una volta acquistato lo stupefacente sarebbe stato destinato al giro degli amici di scuola ma lo scambio di consegne era andato male il giovane in compagnia di un coetaneo era stato sorpreso dalle forze dell'ordine e arrestato ieri il patteggiamento il fatto risale ai primi di febbraio coinvolti appunto due neo maggiorenni due giovani erano arrivati a Pesero da Fano a bordo di un'auto e questa è la pagina sempre di di Pesero andiamo su quella di Fano del Corriere Adriatico perché si parla dell'estate della prossima estate è stata imminente del calendario degli eventi ora lanciamo Fano da Vivere nel 2021 si punterà sul turismo esperenziale grazie alla collaborazione tra comuni e privati ora queste sono le proposte da vivere in un solo giorno le vedete sintetizzate in questo grafico per esempio all'interno dei capannori del carnevale oppure in barca per sperimentare la navigazione d'altura in cucina per apprendere i segreti del brodetto nell'entroterra per gustare i prodotti a chilometro zero oppure all'aeroporto di Fano sempre per provare l'ebbrezza del volo e del lancio in tandem con il paracadute ci sono eventi confermati come passaggi festival Fano Jazz e carnevale estivo poi il symphony pop festival il brodetto feste letteraria e Fano Film Festival come vedete non c'è la Fano dei Cesari la Fano dei Cesari è ancora in stand by evidentemente bisognerà aspettare di capire un po' come andrà come andrà dal punto di vista pandemico un'estate ricca ma non alla romana titola invece il resto del carino un cartellone pieno di appuntamenti ma senza la Fano dei Cesari salse il sipario sulle mille iniziative poi tre premi invece di passaggi ve lo abbiamo ricordato anche ieri sera nel corso del telegiornale verranno premiati anche Vecchioni il cantante poi ancora Cesare Cremonini e poi anche Altan che è stato liberato un giornalista che è stato liberato mercoledì scorso ma che appunto la sua presenza a Fano resta in questo momento un'incognita il comune invece assumerà personale titolo del corriere ai concorsi si partecipa però da casa annunciato un protocollo anti-covid ogni concorrente verrà controllato da due praticamente da due telecamere raddoppiati i prezzi delle materie prime diventa nazionale la segnalazione fanese Baldarelli della CNA soddisfatto dell'interesse di una trasmissione che mi manda Rai 3 Paolini il consiglio se ne frega mascarina ma che grossolano fusione la fusione marche multiservizi con Aset l'assessore smentisce le dichiarazioni del presidente Ata sullo studio di fattibilità poi c'è una storia invece che racconta il Carlino di Fano l'appello senza acqua e servizi aiutatemi un musicista un sassofonista che vive in strada in un camper tra poco sarà sgomberato perché lì vicino al cimitero nell'area verranno realizzati i lavori non riesco a pagarmi una stanza dice lui e queste sono le fotografie di Norbert questo è il nome del musicista di strada che ha 55 anni e che da qualche tempo vive appunto in Rulotti il parcheggio è quello tra via Kennedy e via della Giustizia mentre sulla pagina di Urbino del Corriere Cancellieri studia la ferrovia E78 binari paralleli alla strada la superstrada l'idea dei tecnici fermignanesi Francesco Lorenzo Indio piace a tutti il video rendering di presentazione visionato dal sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture sempre dalla pagina di Urbino addio a Bruno Ciclon Nuara era lo zio di calcio e basket è morto e siamo a Fermignano a causa delle complicazioni da un intervento al femore Bruno Nuara 77 anni detto Ciclon due paesi lo piangono Fermignano dove ha trascorso parte della sua vita e Urbania si era trasferito nell'antica Casteldurante dopo il matrimonio con Domenica e la nascita del figlio Francesco vediamo se c'è anche l'orario del funerale questa mattina alle 9.45 nel Duomo di Urbania mentre un altro funerale che questa volta c'è stato a Lunano per salutare Tonino Salvatore 81 anni primo cittadino di Lunano dal 1990 al 2004 presenti le istituzioni c'era il Presidente della Provincia tutti i sindaci del Monte Feltro l'ex sindaco di Piobbo insomma c'era il gota del socialismo provinciale anche Leonardo Tallozzi per l'entroterra Massimo Seri sindaco di Fano insomma tantissimi per dare l'ultimo saluto a questo amato sindaco verrebbe a questo punto da dire lavori per consolidare il Palazzo Ducale d'Urbani avviato il rafforzamento strutturale e la messa in sicurezza contro i terremoti il sindaco Ciccolini dice felici che si recuperi e conservi quest'opera e poi a Macerata Feltre invece i fantastici 101 anni della Signora Rosa festa per l'agostoli la sua vita è stata anche difficile ma un grande amore e una bella famiglia l'hanno premiata ecco la fotografia della Signora Rosa mentre saluta via computer i nipoti di fronte alla torta con i 101 anni che indica appunto i suoi 101 anni a Pianello invece a Pianello di Cagli si accende la speranza di poter avere finalmente un bancomat prosegue la battaglia dell'Udc lavori pubblici il Sindaco annuncia ora quattro interventi il Sindaco è quello di Fossombrone priorità al Ponte Crollato e alla Frana di Sant'Anna poi Viale della Caserma e i Giardini Bonci promette il via alla fase operativa dopo l'approvazione dei bilanci preventivo e consultivo poi sempre da Fossombrone il volley torna in campo e sono subito vittorie il debutto della formazione Under 17 oggi tocca alle atlete quindicenni andiamo invece sulla pagina della Val del Cesano per una notizia di cronaca da Mondolfo stroncato lo spaccio di cocaina due operazioni quattro arresti incastrati un mondolfese di 24 anni e un marottese di 45 parte del giro partiva da tre castelli per un giovane che non si è fermato all'alto dei carabinieri le manette scattano per resistenza a pubblico ufficiale incontro ravvicinato con un lupo era timoroso ed è fuggito l'esperienza di una giovane mamma che racconta l'episodio accaduto a Orciano ai bordi della strada tutto poteva pensare tranne che un giro in macchina per portare i figli all'allenamento di calcio si trasformasse in un incontro con un lupo è successo poco dopo le 18 a Orciano spaccio di cocaina scattano quattro arresti la stessa notizia che abbiamo visto poco fa sul Corriere il Carlino ha deciso di inserirla sulla pagina di Senigallia i carabinieri hanno fermato un 33enne residente a Trecastelli e altre tre persone del Pesarese sequestrate oltre 150 grammi di droga poi semplificazioni del comune certificati ai tabacchi tra rilasci e richieste già operativi gli sportelli aperti in sette rivendite nella città di Senigallia il sindaco dice facciamo risparmiare così il tempo alle persone la pagina del Corriere dalla boutique al laboratorio artigianale in tre mesi aperti 32 nuovi negozi in città siamo sempre in Senigallia nonostante la crisi c'è vitalità anche in centro l'assessore canestrale dice il momento giusto per investire in questo momento mentre sulle pagine sportive una vis molto più over la salvezza passa da qui il derby di domani sera su Sky contro la Fermana sarà una tappa fondamentale di donato dice senza più vincoli gli under da schierare più può fare le scelte dunque migliori mentre per il Fano questo Matelic è forte il Fano deve vincere Marcantonini è il doppio ex del derby Granata sempre dice nel mio cuore per me la squadra di Tacchinardi ha tutte le carte in regola per salvarsi la VL invece adesso deve ritrovare il sorriso perduto domani a Triestre sarà una sfida non impossibile intanto c'è ancora un rinvio per il caso fortitudo è tutto grazie per averci seguito vi ricordo a mezzogiorno da oggi ritorna il rosario dalla Basilica di San Pietro a Roma con il Cardinal Angelo Comastri e poi questa sera invece le 21 il rosario sarà dalla Santa Casa di Loreto grazie per essere stati con noi passate un buon fine settimana arrivederci no 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 Grazie a tutti.